Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto in studio Alessandro Ranieri. Sono box in uso all'ufficio locale marittimo e a privati, le strutture in legno andate a fuoco la notte scorsa alla Cesanella di Senigallia per cause ancora in corso di accertamento. Le strutture sono in concessione a laggesti, porte sono utilizzate per il rimessaggio di barche, corde, segnalatori boe e materiale simile. Due su cinque quelle interessate dalle fiamme insieme ad una passerella di legno. In gravi condizioni una donna di 59 anni travolta in sella al suo scooter da un'auto in via Glotto a Cesanella di Senigallia. L'incidente si è verificato poco prima delle 10. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette in eleambulanza atterrata nel giardino dell'asilo. Traffico congestionato sul posto anche i carabinieri. I carabinieri di Senigallia hanno arrestato la notte scorsa un tunisino di 34 anni responsabile di stalking nei confronti della ex fidanzata che poco prima aveva chiamato il 112 proprio per paura di essere aggredita per l'ennesima volta. La donna, una 37enne, lavora in un ristorante. L'ex compagno l'aspettava fuori dal locale e quando l'ha vista uscire l'ha presa per un braccio e le ha strappato il cellulare. I militari che si erano appostati lì vicino sono subito entrati in azione e hanno bloccato l'aggressore, mentre la donna in preda ad una forte ansia è svenuta. Soccorsa da un'ambulanza del 118 si è ripresa poco dopo. Per il tunisino, già querelato in passato dalla ex fidanzata per atti persecutori, ci sarà un processo per direttissima. Da una cena a Senigallia in memoria di Paolo Simone oltre 3.000 euro per casa Taiba. Dopo il tragico lutto che ha colpito la dottoressa Emanuela Sbriscia Fioretti, il pronto soccorso dell'ospedale di Senigallia, in collaborazione con il Comune e la Scuola di Pace Vincenzo Buccelletti, ha deciso di organizzare una serata di beneficenza dal titolo Cena sconfinanti in memoria di Paolo Simone. La serata ha visto come filo conduttore il progetto Casa Taiba, già fortemente voluto e promosso dal dottor Simone, alla quale è stato devoluto il ricavato della serata. Circa 200 le persone che hanno partecipato, consentendo di raccogliere oltre 3.000 euro. Vincendo per 0-3 sul campo del Calcinelli Lucrezia, le ragazze della DigiDesign MIV Senigallia chiudono il loro precampionato qualificandosi per gli ottavi di finale di Coppa Marche di Volley. Nella prossima settimana inizierà la stagione vera con l'avvio del campionato di Serie C. le nero-azzurre esordiranno in casa affrontando il Colle Marino. È tutto per questa edizione di Alessandro Ranieri. Buon proseguimento d'ascolto.